io ho finito di salire come avete finito? vediamo! che fate fermi? da fare video big Sì, non è che la casa è una autunica. No, non è qua, eh. Sì, non è spiegato per l'altro. No, no, no. 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 Dopo c'è un'altra cosa dove andassi qui. A che quota stiamo? Quota. Dai che sta a fare un piccolo video. Dice a che quota stiamo, dai. A 150. Più forte. Più forte non si sente bene. 8,54. La pendenza è una merda, vabbè. Bella Fabri. Pura su una rosa in salita, eh. Com'è sto fiato? Fiato. Manco ti sento, più che ti lascia parlare. Canta c'è un frammatino campanale. La voglia. Facci lo canti? Pugliavo. Dai, dai, ale, 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 non fa male. Ecco davanti. Il grande e benji. Il nostro navigatore umano. Che cerca di trovare il fondo più stabile possibile. Con rapide arrancate. Io con la mano, poi batto il grugno per te alla fine. Cerchiamo di... Sto facciando. Col casco della domaglia. Che sfida. Quegli amici che è inarrestabile. Dai, esatto. Ecco, Lori. Vai, Lori, che mi fai sudare se mi fermo troppo. E su, cazzo. Sto rapporto da frocio, poi. Non va male tanto da frocio. Ci vediamo più su. E su, cazzo. 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 bella bella vieni che vale Dai è Gianni e Pinotto Sempre l'ultimo Stavo a far video mezz'ora Che cazzo Dai che veni più da sotto così sembrate più grandi Se diamo il tempo per fare i pesi Fatti bene, capito? Mica più alto, potremmo anche correre Alla grande A me non senti? Suoni tu Suona le campane Suona le campane Arriva, arriva Bisogna aver fede Dai Lari Eccolo L'ultima pippa Big Ci faccio Vai Oli Ce la fai Ce la fai Sto schiattando Ancora girano i campi Quindi Buon rapportino da prossimo Però 1080 Mi ha chiesto pure a Carmine Se mi faceva una cosa particolare Pure che ne so Era il mio ristorante Nevi di nanzi Sì Sto provando Cacatum Preso Qui? Buona Alla Basta 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 ci dici benji bella strada comunque bella strada di montagna c'è una strada Grazie a tutti. A che quota stiamo qui? 1.135. 1.135, ne abbiamo fatti fino a ora quindi? Circa 1.000 di dislivello se non erro. Bene, alla grande. Perché siamo partiti da 150 metri. Facciamo vedere il grugno. Stiamo preparando un'antivento. Con l'antivento perché adesso toccheremo velocità. Eccoci qua. Adesso un po' si comincia a calare. A doping. Con l'antivento. Un saluto alla compagnia. Versante sud-destra. Verso Carcioli. Si scende verso nord. A velocità a fogli permettendo. Saluti. Eh, quella è quale parte? Stagli a costa è il massimo campo felice da quei parti in là. Poi questo piano piano diventa sempre più stretto. Alla fine c'è stato questo qua tutto con il ricagnolo d'arca. È tutto pieno di sassi. Però poi ci spogli stretti stretti. Che ci dici, Benji? Che ci dici niente. Niente. Non parlo. Ci dici niente. È carico. È carico psicologicamente. Doxarico. Unno. E ho. Moloso. E ho. E ho. È carico. Ma sangrioba. Si scendeve. Mi carne cuadra. Un infine. Scusa, guarda che ti sta a documentare. E' stato un peccato non firmarla perché la prossima volta la coprò. Perché ci va la coprò per firmare questa roba. E' stato un peccato. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.